Ragazzi, questa roba qui può essere molto pericolosa. Vediamo cosa dice la fisica. Dato che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, nella reazione di esplosione di un petardo l'energia chimica si trasforma in luce, il lampo che vediamo, e anche in energia sonora, ovvero un forte scoppio, come anche in energia cinetica, dei frammenti che vengono proiettati in varie direzioni, ed in calore. I petardi illegali, a differenza di quelli legali, sono spesso costruiti artigianalmente, o almeno non secondo le norme, e la probabilità che essi esplodano in modi e in momenti diversi da come e quando ci si aspetta è molto più alta rispetto a quelli legali. Nell'esplosione vengono liberati circa 500 J di energia, più che sufficienti, se l'esplosione è ravvicinata, a far sì che l'energia in gioco si trasformi anche in energia interna al nostro corpo, tale da rompere i legami della pelle e dei muscoli, causando nei casi più gravi anche il mozzamento di uno o più dita. Ora, se proprio dovete, usate petardi legali, evitate tassativamente di accenderli in mano, e per abbassare il rischio di esplosioni ravvicinate, appoggiatevi su una superficie, accendeteli e poi allontanatevi molto velocemente. Mi raccomando.